A 30 anni dalla scomparsa del giornalista Giancarlo Siani, il Comune con la Fondazione Polis hanno intitolato l'atrio del Palazzo delle Arti di Napoli al giovane cronista. Durante l'incontro, alla presenza del fratello Paolo Siani, che insieme con il sindaco Luigi De Magistris ha scoperto la targa, è stato ricordato come dopo tanti anni il lavoro del giornalista del mattino non sia stato dimenticato, ma funga da stimolo per tutti i napoletani che hanno deciso di restare per difendere la propria città. Numerosi gli artisti presenti, da Maurizio De Giovanni e Francesca Rondinella a Rosario De Cicco e Antonella Stefanucci. Durante l'evento è stato possibile ammirare la Meari, l'auto sulla quale Giancarlo Siani è stato ucciso il 23 settembre 1985 e i disegni che i bambini delle scuole campane hanno realizzato lasciandosi ispirare dalla terribile tragedia del cronista. L'inaugurazione della targa è venuta a valle di numerosi appuntamenti che dallo scorso giugno si sono succeduti al PAN e in altri luoghi di Napoli e provincia per ricordare Siani. Corsi di formazione, proiezioni di documentari, dialoghi e convegni che hanno visto una forte partecipazione di tutta la collettività. Noi abbiamo sperimentato qui con la presenza della Meari in questo palazzo delle arti di Napoli che l'incontro tra cultura, bellezza e simbolo della legalità ha funzionato molto bene. Grazie.